Il Parlamento europeo ha votato per l'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie. È stato un grande successo a cui hanno contribuito anche molti di voi. Confesso che eravamo molto preoccupati per l'assalto delle lobby finanziarie, ma alla fine la compattezza del gruppo dei socialisti e democratici ha consentito anche a una parte importante dei popolari di dissentire dal loro gruppo e votare per far pagare la crisi anche a chi l'ha scatenata. Eravamo anche preoccupati per la disinformazione. Questa tassa non tocca le tasche dei correntisti, dei piccoli risparmiatori, delle imprese. Questa è una tassa che riguarda soltanto le società finanziarie, gli investitori, gli speculatori. Contro il provvedimento il gruppo del Partito della Libertà, il gruppo italiano, ha votato seguendo le indicazioni di Tremonti contro l'introduzione di questa tassa di solidarietà. Insomma è stata una vittoria importante, realizzata anche con il contributo dei cittadini e delle associazioni che hanno fatto sentire la loro voce. Ora la parola passa alla Commissione europea che dovrà decidere quali misure, come e con quali strumenti introdurre questo provvedimento. Insomma basta pagare la crisi con i soldi pubblici. Il Parlamento europeo ha chiesto a tutti uno sforzo di solidarietà.